Siamo pronti a partire anche con i lavori di riqualificazione urbana di Viale Battisti. Ricordiamo che è un intervento molto importante per la città su un asse che connette il centro storico al mare, un intervento di un milione di euro che ci siamo aggiudicati grazie ad un bando ministeriale. Questo intervento, grazie anche alla collaborazione preziosa degli imprenditori e degli esercenti, oltre che naturalmente la ditta che si è subito prestata, partirà nella settimana del 19 di giugno e partiremo proprio da qui, da Piazzale Rosselli. Piazzale Rosselli che è appunto una pertinenza stradale che si interseca con quella che è la rotatoria poco prima del Viale, dove è prevista la realizzazione di una nuova pavimentazione sempre in selciato, che sia appunto la continuità di quella che è l'asse del corso Garibaldi e anche una riperimetrazione di quello che è l'aiuola qui alle mie spalle con un'area, quindi con una nuova fioriera prevista e quindi per far divenire quest'area di sosta al meglio possibile e per rendere appunto questo spazio un'altra nuova piazza della città. Proprio per venire incontro a quelle che sono state le esigenze naturalmente degli imprenditori, ma anche immaginiamo degli esercenti verso mare, abbiamo cercato di contenere nel periodo estivo tutti i lavori attorno a questo perimetro. Ci sarà una prima fase di lavori che arriverà sino a fine luglio, si sospenderanno per il mese di agosto per poi riprendere da fine agosto sino a metà settembre sempre all'interno di questo spazio. Fine settembre i lavori continueranno nella parte sottoponte, quindi proprio per la riqualificazione di quello che sarà tutti controviali, quindi con una nuova pavimentazione, un'illuminazione con dei paletti luminosi, ma anche dei segnapasso, quindi che renderà ancora più suggestiva questa bella passeggiata con delle nuove aree di sosta, attraversamenti pedonali, il rifacimento di tutto quello che è l'asfalto nella parte centrale e anche la realizzazione di una nuova pista ciclabile. Successivamente, come ho fatto con quelli che sono gli esercenti di questa pertinenza, chiameremo a luglio, quando saremo in grado con la ditta in corso d'opera dei lavori, chiameremo anche ad un incontro pubblico tutti quelli che sono gli esercenti interessati nella seconda fase. Ricordiamo che questo è un intervento che si connette perfettamente con quello che sarà invece la riqualificazione del waterfront, che riguarderà invece il frontemare.